Quando sono riuscita a realizzare che al di là del dolore era più importante, era più importante il bisogno di verità e di giustizia, sono partita, siamo partiti con questa battaglia che ha pagato, mi piacerebbe sempre che rimanesse che le battaglie nel nostro paese, anche condotte dai cittadini normali, normalissimi, possono pagare. Siamo riusciti a far dimostrare agli organi dello Stato, alla magistratura, quello che è successo nei nostri cieli. Oggi la politica deve aiutarci per concludere e scrivere anche gli autori dell'abbattimento di questo aereo civile. Perché è brutto sapere di per certo che ti hanno battuto un aereo civile in tempo di pace, è brutto sapere che tu come paese hai visto violati i tuoi confini e i tuoi diritti e non riesci a garantire un minimo di dignità nazionale. Io credo che solo questo deve spingere i politici di oggi, i governanti di oggi e di domani a chiedere conto ai paesi che stavano quella notte nei nostri cieli. Grazie a tutti.